Benvenuti all'Asilonino Mary Poppins. La nostra struttura si presenta nel rispetto delle nuove normative Covid ed è suddivisa in due stanze polifunzionali e una adibita a nanna. Il nostro ingresso si presenta con armadietti personali che sono identificati con le foto dei bambini. Di fronte alla porta d'ingresso troverete un cartellone delle nostre routine giornaliere ed il cartellone dei compleanni. Sulla vostra sinistra troverete la stanza della psicomotricità e delle varie attività strutturate e non. Sulla vostra destra troverete la seconda stanza polifunzionale adibita a gioco simbolico e a angolo lettura. Questa è collegata con la stanza della nanna ed il servizio igienico, attrezzato con un fasciatoio e apposta a scaletta, due luci e appendi abiti personalizzati con la propria sacca del bambino. Il nostro giardino si divide in quattro aree di gioco interscambiabili tra bambini del nido e bambini della scuola dell'infanzia. Il nostro progetto educativo di questo anno si orienta sull'autodoro education e sull'importanza di continuità tra ambiente interno ed esterno. Il personale educativo è composto da Chiara Ceccarelli, Francesca De Biasi e Giada Fagliuca. Il nostro coordinatore pedagogico è Paola Brunabianchi. Per eventuali informazioni contattateci. Vi aspettiamo numerosi!